E siamo sempre qui da Bologna e l'ultima, abbiamo appena concluso, l'ultima puntata della nostra meravigliosa Dracqueen Academy, la nostra accademia per le nuove Dracqueen che si, diciamo, si affacciano al mondo dello spettacolo. Qui abbiamo le biondone, le biondone di questo anno abbiamo... Odette Face e Natalia Blanche Allora ragazze, cosa vi ha lasciato quest'Academy? Tanti lividi, tanta voglia di continuare, tanta voglia di spaccare tutti i palchi che troverò e soprattutto una famiglia, una famiglia molto bella di grandi amici. Tanti lividi perché, lo spieghiamo, perché nel tuo talento principale c'è il... Il palo Il palo, il palo, che è tutto un dire. Natalia, cosa ti lascia quest'Academy? Allora, mi lascia una terza abbondante, anche quarta, dei debiti, ovviamente, no, sto scherzando, mi lascia davvero un'esperienza fantastica, delle sorelle fenomenali e spero che mi dia tanto, tanto, tanto lavoro. E sia Natalia che Odette le rivedrete il 6 e il 7 aprile al Drag & Friends Festival, un festival meraviglioso che si terrà all'ex bocciofila Ponte Lungo, a Bologna, con più di 100 drag queen, ospiti internazionali, un'occasione meravigliosa di vedere quest'arte nel pieno della sua espressione. Ci vediamo il 6 e il 7 aprile a Bologna. Ciao, buonanotte! Grazie a tutti!